E' stata la provincia di Brindisi eseguire gli interventi infrastrutturali previsti per il G7 che si terrà a Borgo Ignazia e il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha individuato l'ente quale soggetto attuatore per gli interventi infrastrutturali sulla rete stradale provinciale e comunale di Fasano e Brindisi. Il commissario nell'approvazione del secondo stralcio del piano commissariale ha deliberato l'importante piano di lavori con particolare attenzione alla città fasanese per un ammontare complessivo di quasi 4 milioni di euro, un grosso investimento utile a mettere in sicurezza la rete viaria del territorio. I lavori conclusi nei tempi previsti hanno riguardato le strade provinciali e hanno interessato anche le strade comunali di Brindisi e di Fasano nonché la viabilità interna della base navale della Marina Militare di Brindisi. Per quanto riguarda il comune di Brindisi sono stati eseguiti gli interventi di rifacimento del piano viabile di via provinciale San Vito e della viabilità di collegamento all'aeroporto del Salento e alla SS 379 Brindisi Bari. Infine sono stati realizzati due parcheggi temporanei a servizio della questura di Brindisi e dell'aeroporto. La provincia di Brindisi ha affidato ed eseguito tutti gli interventi con il supporto degli uffici tecnici dei comuni di Brindisi e di Fasano e della Marina Militare per le strade di rispettiva competenza. Sono particolarmente orgoglioso per l'eccellente lavoro svolto dall'ufficio tecnico della provincia, ha affermato il presidente Toni Matarrelli. Si è trattato di interventi importanti per assicurare una perfetta viabilità in considerazione delle esigenze di sicurezza legate all'arrivo delle delegazioni e delle massima autorità dei paesi del G7. Sono stati messi in campo impegno e professionalità che hanno ampiamente soddisfatto le aspettative del commissario Soccodato. Ringrazio tutti i tecnici dell'ente che rappresento per aver dato ancora una volta prova di efficienza e competenza.